Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo videoguida in cui voglio mostrarvi il nono ed ultimo invito dei nove, quindi gli step necessari a completarlo ed i successivi dialoghi ed eventuali cinematiche. Innanzitutto, questa settimana Xur si troverà su Titano e per la prima ed unica volta grazie al cielo, l'invito dei nove non riguarderà il PvE, infatti i tre incarichi da dover completare ci richiederanno di portare a termine, e sottolineo portare a termine non necessariamente vincere, tre partite in rissa, tre partite in partita veloce e tre partite competitive, anche se almeno a me le tre partite di rissa le ha contate anche come partite veloci, quindi ci ho messo ancora meno. Una volta completati tutti gli incarichi, basterà andare nel solito menu di navigazione e far partire la solita missioncina. Dunque vi lascio ai dialoghi e alle cinematiche, vi ringrazio per aver seguito questi inviti in mia compagnia e vi auguro buona visione! Abbiamo un'altra verità da condividere con voi. Avrebbe dovuto dirtelo il Dregion, ma come sempre, la paura frena il suo pieno potenziale. Per favore, apri la mente. Grazie! Grazie! Graziele Pra 여러분 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie! potrebbe perfino funzionare e quando sarà il momento ne usciremo puliti un cavallo ok osservarti ci ha divertito siamo qui per salutare la nostra attenzione è richiesta altrove ok tante grazie per la deriva nostalgica c'è altro che posso fare per voi lo stai già facendo continua a giocare grazie a tutti cala la no la fuori tra i mondi il tuo destino è una guerra invisibile tra flotte e inrovina due donne temute e inaffidabili tenute per sempre a distanza qui a casa il tuo destino è una moneta nelle mani di un bugio un uomo spaventato irresponsabile in una perenne ricerca questo devi domandare sei in grado di vedere il cammino conosci l'aspetto della tua prova quali a tu e